Attaccate! 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 Inzionatemi su quella posizione, ragazzi! Troversi! Attaccate! Inzionatemi su quella posizione, ragazzi! Inzionatemi su quella posizione, ragazzi, 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 ragazzi! Ragazzi! BAM! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 stiamo perdendo questa battaglia e da te il mio tozzo ora ma 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 ci ma eh ah ah il qui era Ugo! Pazze! No Non vedete i copi di trinceo! Infiodateli su quella posizione, ragazzi! Attaccate! Non vedete i copi di trinceo, ragazzi! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti